buongiorno sono venamarco anch'io curato dal dottor palmas ai bucarest però prima di parlare dell'esperienza vissuta da me volevo parlare del scetticismo che c'è in giro delle persone perché la pubblicità del dottor palmas l'abbiamo contattato tutti quanti su facebook è tutto vero di quello che lui parla e di quello che lui fa e questo è il risultato niente un'equipa eccezionale dottori altamente professionistici scusate se parlo così perché ho i provvisori però comunque sia tutto sommato un'esperienza grandissima di una grandissima persona e di una grandissima equipe tutti e tutti specializzati incominciando dagli autisti ai dottori ai specialisti tutti quanti vi consiglio dottor palmas a tutti bucarest è bellissima come potrebbe essere bellissima anche la montagna noi abbiamo conosciuto solo bucarest tutta 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 gente simpaticissima gente che cordiale io consiglio a tutti chi ha problema di denti il dottor palmas di tutta la loro e Grazie a tutti.